Penso che questi quattro gol sicuramente non ci volevano, soprattutto in modo in cui li abbiamo subito, perché in pratica abbiamo subito questa partita per 15 minuti, lì abbiamo deciso, noi insieme con Forte e Juventus, anche la gara e penso che il resto, posso dire anche adesso guardando indietro, vedendo anche gli ultimi 20 minuti, esempi della gara, abbiamo tentato, abbiamo creato, non abbiamo molato come si scriveva che siamo stati fuori dal campo, ma abbiamo cercato di ottenere il risultato migliore, non siamo riusciti, non solo colpa nostra, ma sicuramente forse sentendo gli ultimi giorni certi radio, certi giornalisti, mi sembra che tante volte aspettano solo questo per disfare una situazione reale, pronunciare una falsa lazialità, nascondersi e puntare con il dito, essere negativi e portare negatività dentro l'ambiente, e come ho detto, questo vedo più esterno che da noi interno, perché noi abbiamo fatto sicuramente un'analisi profonda, tutti si rendono conto che si poteva e si doveva fare meglio, ma la squadra è tranquilla, la squadra crede e non ha perso quella fiducia che si parla con questa sconfitta, perché è una battaglia persa, ma la squadra credente noi.